un saluto a tutti da snowkills e ben ritrovati nell'ultimo episodio di limbo allora siamo arrivati l'ultima volta qui in questo punto praticamente c'è una gravità a tempo che ci porta a fare ad aspettare saltare lì dovremmo saltare avanti con il tempo oppure fare così accendere questo e morire strafanati allora bisogna veramente saltare lì nel tempo perfetto per attivare e farsi portare su l'ho premuto due volte come un pirla sì sicuro ora andiamo di qua facciamo così saliamo al volo e salta porca troia oh mi ha preso i piedi che male per poco vai 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 top top allora scendiamo qui scendiamo qui facciamo così via 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 scendiamo di sotto ok allora qui che dobbiamo fare no ok salta qui no dovevo saltare più avanti non ho saltato vai 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 ce l'ho ce l'ho anche perché c'è il rumore che indica quando la calamita si sta per riattivare cazzo per pochissimo per pochissimo vai ora si allora vediamo un po cosa c'è qui ok 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 nulla di buono no cazzo devo fare velocissimo tipo merda merda come allora eccolo il sistema no non è vero staf allora secondo me non è come sembra forse sulla freccia ci si può saltare forse sulla freccia ci si può saltare cioè ci si può appoggiare in modo da guadagnare qualche metro no what the fuck c'è davvero si doveva attivare quello non ci posso credere non ci posso credere 5 minuti ci ho buttato e vediamo che il bambino fa questa strana cosa di forza di gravità passa questo muro che altrimenti era impossibile da passare stavo quasi per sclerare e gli occhi si spengono si è spento e il piedino che va giù non si muove nulla ok riapro gli occhi si è svegliato quindi non si è spento definitivamente ok ricomincia a muoversi perfetto per un attimo ci eravamo tutti preoccupati che fosse finito fosse morto il morto invece non salta più qui cosa è successo perché non salti più lo scopriremo ora non cambia neanche più vediamo se non abbiamo mai capito chi fosse questa cosa questa entità che raccoglio che non si capisce cosa sta facendo sembra che mangia un bambino che mangia ci avviciniamo ah no è una bambina tipo una principessa finisce così ragazzi finisce così devo dire mi è piaciuto molto cioè è figo comunque è stato davvero figo giocare a questo gioco e infatti non appena lo metteranno in sconto prenderò anche Inside che è un gioco che hanno fatto gli stessi identici produttori di questo ed è praticamente molto simile a colori da quello che ho capito davvero divertente quindi penso lo prenderò e anche questa serie è finita mi è piaciuta tantissimo mi piace questo genere di giochi vedo anche che è piaciuto anche a voi avete messo un sacco di like in proporzione alle visual quindi mi fa piacere perché davvero davvero molto bello fatto bene con questo bianco e nero mi è piaciuto tanto quindi lasciate un bel like anche a quest'ultimo episodio lasciate anche un commento fatemi sapere che cosa ne pensate io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video ciao Grazie a tutti.